La vita è sempre molto convulsa e movimentata, non si ha sempre il tempo di poter coltivare le proprie amicizie e quindi di poter investire in termini di sentimenti sulle persone a cui maggiormente si tiene. Non è una considerazione quindi di carattere politico, ma non ci importa nulla perché penso e sono d'accordo con tutti coloro i quali in questi giorni lo hanno manifestato che qualunque tipo di società si deve fondare sui buoni sentimenti senza i quali non ha alcuna possibilità di crescere e di svilupparsi in maniera sana e quindi cominciamo a riscoprire le cose che contano e quelle che anche da un punto di vista politico-partitico hanno apparentemente meno senso e meno significato. E' anche per questa ragione che Fratelli d'Italia, la destra italiana romana in genere e in particolare la destra romana ha sempre avuto un rapporto particolare con il presepe e con il presepe vivente.